Benvenuti su Gossip Mania TV. Vittorio Menozzi Shock, Provini Amici e Grande Fratello, dovevo andare ma poi. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Il Grande Fratello è finito da tempo, ma i concorrenti dell'ultima edizione continuano a sorprenderci con nuovi racconti e curiosità sulla loro partecipazione al reality. Questa volta, al centro dell'attenzione del pubblico c'è Vittorio Menozzi. Il modello, amatissimo dai più giovani e dai fan di Beatrice Luzzi, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulle fasi precedenti al suo ingresso nella casa. Infatti, Menozzi ha condiviso un retroscena interessante, avrebbe dovuto partecipare ad Amici di Maria De Filippi, ma qualcosa è andato storto. Ecco i segreti dei suoi provini. Vittorio Menozzi è stato ospite del programma radiofonico di RDS, Reality Bites. La conduttrice, Alessia Prete, ha cercato di capire se il geffino fosse interessato a partecipare ad altri reality in futuro. Inaspettatamente, Menozzi ha confessato che in realtà il suo sogno era partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Probabilmente non parteciperei più ad un altro reality, ha detto Menozzi. L'isola dei famosi? No, non fa per me. Perdo il fisico, l'addominale. Non è il mio genere. Ho imparato questo grazie al grande fratello. Io inizialmente non dovevo partecipare al GF, ma ad Amici. Questo è il colpo di scena. Avevo inviato delle clip in cui cantavo e suonavo la chitarra, e la redazione mi aveva detto, ci piace. Mi avevano invitato a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però ho ricevuto un messaggio su Instagram dai ragazzi del grande fratello che mi chiedevano se volevo fare i casting. La svolta è arrivata grazie all'intervento di altri. Non volevo partecipare al GF, ma i miei conoscenti mi hanno convinto a provare. Ho richiamato il GF e mi hanno detto, sei interessante, vieni a Roma. Ho chiarito che avevo già un impegno a Roma in quei giorni e se avessero trovato uno slot per vedermi, sarebbe andato bene, altrimenti niente. Alla fine hanno trovato il posto. Menozzi ha raccontato di una situazione imbarazzante e confusa durante i provini. Non ero molto interessato, ma nella vita più non ti importa e più le cose succedono. Inoltre, la ragazza che gestiva i provini del GF aveva lo stesso nome di quella di Uamici, quindi c'è stato un fraintendimento. Mi hanno chiesto com'era andata e ho risposto Ubene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni. La ragazza è rimasta spiazzata, ma cosa, come ti hanno fatto cantare? Nonostante l'equivoco, tutto è andato per il meglio con Il Grande Fratello. Tuttavia, rimane il dubbio se la porta di Uamici sia definitivamente chiusa. Recentemente è emersa la data d'inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Con l'avvicinarsi del reality, sono trapelati ulteriori dettagli sui possibili concorrenti. Secondo Izaichia, Cristiano Iovino potrebbe far parte del cast. Iovino è noto per la presunta relazione con Ilari Blasi e per la frequentazione con Oriana Marzoli. Amedeo Verza ha rivelato su Instagram che il reality sta ancora cercando concorrenti e che Iovino è in trattativa per entrare nella casa. Iovino, personal trainer e coinvolto in un recente scandalo legato a un locale di Milano e a Fedez, potrebbe essere uno dei nuovi inquilini della casa più chiacchierata d'Italia. Sarà davvero così? Non resta che aspettare l'inizio della nuova edizione per scoprirlo. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip. Grazie per aver guardato il video.